Musica Negli studi di TV City il consigliere comunale con delega ai rifiuti Luigi Mele in questi giorni si stanno intensificando i controlli contro il sacchetto selvaggio come sta andando? Sì stiamo approfittando diciamo delle giornate lunghe e con i vigili urbani stiamo facendo controlli fino alle 24 in maniera tale da verificare chi va a sversare fuori dal posto che compete perché purtroppo ancora la gente non ha capito che a Torre del Greco esiste il porta a porta e devono pretendere la raccolta porta a porta quindi non devono fare in modo che anche chi raccoglie rifiuti perché molte persone mi hanno riportato che stesso chi raccoglie rifiuti chiede di fare i cumuli cosa che assolutamente non va fatta quindi io questo è un appello che faccio a tutti i cittadini quindi chiunque avesse questo tipo di informazioni sono informazioni sbagliate i rifiuti vanno depositati avanti alla propria abitazione con i bidoni, senza i bidoni qualsiasi sia la modalità che li tengono più opportuna magari ce lo fanno sapere e cercheremo di dargli una mano per poter conferire nel migliore dei modi A seguito di questi controlli sono state fatte delle sanzioni? Sì diciamo che purtroppo le sanzioni sono tante che stiamo facendo a me dispiace perché in questo periodo non facilissimo per nessuno non è bello fare sanzioni però mi sono reso conto che solo così la gente si crea il problema e capisce che va affrontato diversamente sto venendo proprio in questo momento da un incontro fatto in via Trieste proprio perché a seguito di controlli lì su viale Campania dove sversavano un po' tutti quanti praticamente la gente si è ad essa convinta che non può sversare più in quel punto per chi ha riscontrato più di una sera i controlli e quindi di conseguenza ci ha chiesto informazioni su come poter conferire i rifiuti presso le proprie abitazioni Quali sono le zone più critiche? Il piano industriale è fatto male è un piano industriale che non può funzionare per la città di Torre del Greco sicuramente in periferia dove ci sono gli spazi la cosa funziona e funziona anche bene infatti le lamentele sono pochissime chiaramente il problema più grande l'abbiamo nel centro dove ci sono un maggior numero di abitanti e gli spazi per poter conferire in maniera corretta sono pochi quindi sicuramente in un futuro, in un nuovo piano industriale si dovrà prevedere magari dei centri di prossimità nel centro come fanno un po' in tutti i comuni anche del nord con delle schede magnetiche, con l'accesso ai bidoni e cercare di conferire in maniera corretta chiaramente c'è un grosso lavoro da fare prima di tutto dobbiamo cambiare la mentalità io lo dico sempre ma non attaccando i cittadini per l'amore di Dio, molti cittadini torresi sono corretti e sono ligi al dovere molti altri invece purtroppo continuano a fare quello che vogliono non differenziano, buttano i rifiuti fuori orario li buttano nei posti in cui non vanno buttati per non parlare poi degli ingombranti cioè sicuramente noi abbiamo le nostre responsabilità perché al momento abbiamo un punto di accolto ingombranti che sicuramente forse è troppo piccolo per le esigenze che ha la città di Torre del Greco tanto è vero che ne stiamo realizzando a breve un altro in Viale Sardegna dove c'erano gli uffici comunali e un altro cercheremo di farlo quanto prima in Via Sant'Alea La Bruna anche lì dove era resistente prima l'ecopunto e anche lì cercheremo di organizzare un nuovo punto per raccolta ingombranti voglio rassicurare perché magari qualcuno si può subito allarmare per questa cosa sarà solo per la raccolta dei RAE, degli ingombranti e cercheremo anche di istituire un punto di raccolta di quei materiali inerti che chiaramente oggi la gente non sa dove buttare o che comunque deve pagare per poter smaltire In questi giorni la nostra emettente ha lanciato un sondaggio rispetto all'argomento rifiuti per chiedere ai cittadini se si ritengono soddisfatti o meno della gestione di questa ditta quello che emerge è che oltre il 90% di coloro che hanno risposto purtroppo dice di no Sicuramente questa è una cosa che noi riscontiamo tutti i giorni tanto è vero che oggi pomeriggio abbiamo convocato con il sindaco, con l'assessore, con i consiglieri comunali capigruppo con il dirigente, con il comandante dei vicini urbani con la consulta perché la consulta anche fa parte di quel gruppo di cittadini che rappresenta comunque i cittadini e quello che succede in città e abbiamo chiesto un incontro urgente con la ditta vista proprio la situazione, non dico di emergenza che si è creata in città ma la situazione sicuramente non sostenibile con questo caldo quindi oggi sarà uno di quegli incontri importanti nella quale la ditta ci dovrà dare delle risposte e spero che siano delle risposte corrette e giuste perché fino adesso abbiamo in qualche modo tollerato ma adesso non possiamo più tollerare da questo momento in poi inizieremo a ragionare in maniera diversa quindi la ditta dovrà rispondere ed eseguire quello che è previsto per contratto dove spazza non spazza bene dove raccoglie lascia comunque residui a terra in molti punti ancora i loro lavoratori dicono di fare cumuli e non di considerare il porta a porta quindi tutte queste cose la ditta non le deve fare e non gli sarà più consentito di farlo quindi da questo momento io spero oggi prima dell'estate di avere un punto di svolta perché poi da settembre in poi dovremo vedere una città sicuramente diversa a a a a a a a Autore dei sorrisi